Credo che nessuno a questo mondo si aspetti di svegliarsi un mattino e ritrovarsi nel bel mezzo di una guerra tra due organizzazioni segreste, non io almeno. Ma eccomi qua. Da un lato ci sono i templari, meglio noti al giorno d'oggi come abbergo industry. Vogliono controllare ogni cosa, politica, economia, tecnologia. Non si fermeranno finché non ci avranno soggiogati tutti, letteralmente. Contro di loro si battono gli assassini, un gruppo votato alla difesa del libero arbitrio dell'umanità. Io sono nato nella confraternità. Alcune settimane fa i templari mi hanno trovato e fatto prigioniere. Mi hanno legato a una macchina e costretto a lavorare per loro. La chiamano Animus. È lì che ho passato gran parte del tempo. A rivivere i ricordi dei miei antenati, a scoprire vite intere racchiuse nel profondo del mio diagnosi. Prima ho ripercorso la vita di Altair Ibn Lahad, un assassino delle crociate. I templari volevano trovare qualcosa chiamato Frutto dell'Eden, un antico manofatto in grado di piegare chiunque a loro volere. Pensavano di aver ottenuto quello che stavano cercando. Così hanno deciso che ero diventato inutile. Ma Lucy mi ha salvato. Lucy, quando tutto sembrava volgere al peggio si è rivelata un assassino e mi ha aiutato a fuggire. Speravo che fosse la fine delle mie vite avventure, ma eravamo solo all'inizio. Sono ritornato nell'anima. Ora sto rivivendo i ricordi di Ezio Auditore da Firenze, un mio antenato del Rinascimento, alla ricerca di una via da seguire. Grazie all'effetto osmosi sto diventando un assassino e non soltanto di nome. Mi tornerà comodo, visto che i templari vogliono ridurci tutti in schiavi. Ci hanno trovato. Hanno fatto irruzione nel nostro rifugio, ora siamo in cerca di un posto sicuro. Solo che non ce n'è e il tempo astringe. Mettiamo Desmond Mai e questa è la mia storia. Come hai fatto a trovarmi? Mario Auditore, condotto fin qui. Rebecca, che succede? Devo fare qualche verifica. Torno subito. È finita. Il messaggio è evidente. Ora ti ho lasciato tutto. Tutti noi non possiamo fermarti. Il resto sta morto. Che cosa? Chi è Desmond? Non capisco. Ti prego, aspetta. Ho così tante domande. gameone. Comerom... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non credereste mai a ciò che ho visto, zio. Resta vivo, così potrai raccontarvelo. Prevedo resistenza. E io prevedo che il Borgia lamenterà la perdita di molte vite stanotte. Che cosa fate qui? Assassini! Dio vi punirà per i vostri crimini! Voi avete profanato la santità di questo sacro luogo! Voi condannate ciò che non comprendete! Dobbiamo andare, Ezio! Presto! Basta! La sua è la voce del demonio! Allontanatevi di loro! Rodrigo è riuscito a ferirti! A malapena! La corazza ha fermato il suo attacco! Sta pronto a batterti! Che intendete fare? Salvarti! Non male per un vecchietto! Concordo! E la cavi ancora bene! Buono, questo! Magnifico! Val colpo! Notevole! Per Gorgia! Avete venuto per tanto? Ci spiace aiutarmi! Ci spiace aiutarmi! Qualcuno dovrebbe andare in giro con lui? Senti! Sarà bene! E' solo! Gli attivi! Mi attivano poi, dove ti dice che la presina italese va migliorata e forse dal livello di quello francese prima che gli metta a piede in Lombardia! Continuerà invece a combattere il vino finché le tue ragionevoli richieste non verranno soddisfatte! Ora, uccidetevi! Ora, uccidetevi!